Arrampicati sulle strutture alte per avere una veduta panoramica del circondario. Puoi sfruttare gli edifici alti per orientarti all'interno di una città. Vieni, Altair. Parla con me un momento. Come desiderate. È giunta voce del tuo successo. Hai la mia gratitudine e quella del regno. Liberare quelle città dai loro corrotti governanti favorirà senza dubbio la causa della pace. Come fate a esserne certo? I sistemi con i quali gli uomini governano si riflettono sulla loro gente. Mentre tu mondi le città dalla corruzione, guarisci i cuori e le menti di coloro che vi abitano. I nostri nemici dissentirebbero. Che vuoi dire? Ogni uomo che ho ucciso mi ha confessato strane cose. Essi non provano rimorso. Persino nella morte sembrano sicuri del loro successo. Benché non lo ammettano direttamente, c'è un legame tra di essi. Ne sono sicuro. C'è una differenza, Altair, tra ciò che ci viene detto essere vero e ciò che vediamo essere vero. Molti uomini non si curano di tale distinzione. È più facile così. Ma in quanto assassino, è nella tua natura osservare, interrogarsi. Allora cos'è che lega quegli uomini? Ah, ma in quanto assassino, è anche tuo dovere frenare quei pensieri e confidare nel tuo maestro. Perché non può esistere vera pace senza ordine. E l'ordine richiede autorità. Parlate per enigmi, maestro. Mi elogiate per essere perspicace e poi mi chiedete di non esserlo. Che devo fare? La domanda avrà risposta quando non avrai più bisogno di chiedere. Suppongo che non mi abbiate convocato solo per una lezione. Molto bene. Ti vengono di nuovo restituiti un rango e un'arma. Restano ancora due governanti. Va e poni fini al loro dominio. La domanda avrà risposta. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Perfetto. Perfetto. Avrai da fare. Capisco. A morte di infedele! Avrai da fare. Capisco. Troppo ampi in quei fendenti. Così aprite un varco al nemico e crepate prima del tempo. Quando hai terminato i pugnali, rifornisciti tornando a Masiaf o borseggiando dei malviventi. 52. Stefano è morti. Perfetto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. con la vita. a tutti. 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 a tutti.